Dopo l'incendio che ha distrutto un'azienda di pollame a Santa Margherita d'Adige si fa la conta dei danni. In pochi minuti nell'impresa zootecnica di Borgo Veneto le fiamme hanno incenerito circa 200.000 polli sui 270.000 allevati dalla famiglia Cillo. Un danno non ancora quantificato ma si parla di centinaia di migliaia di euro andati in fumo. Ancora ignote le cause dell'incendio scoppiato improvvisamente e che fortunatamente non ha visto persone ferite dal grosso fuoco che è divampato in pochissimi istanti. Accorsi immediatamente sul posto i vigili del fuoco con numerosi autobotti che hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme che hanno distrutto alcuni capannoni della ditta usati per gli allevamenti del pollame. La colonna di fumo era visibile da chilometri di distanza e alcuni sindaci hanno sconsigliato di avvicinarsi all'area. Rientrato l'allarme ora si dovranno stabilire le cause. Grazie a tutti. Grazie a tutti.